Ma guardi, sicuramente noi vogliamo portare la nostra solidarietà a un alleato solito, a un amico, però io credo che il principale senso di questa iniziativa sia un altro. Io davvero non comprendo come le altre forze politiche, alcune delle altre forze politiche, non si rendano conto della mostruosità di quello che sta accadendo oggi. Perché se nel sistema italiano un ministro non può più fare quello che la maggioranza dei cittadini gli hanno chiesto, se non può più difendere le leggi e i confini di questa nazione, di grazie ai cittadini per cosa dovrebbero votare. Se decide comunque il mainstream, perché o fai quello che vuole la sinistra, o ti rimuovono a colpi di processi, perché non hai fatto quello che voleva la sinistra, ma quello che volevano i cittadini, perché la gente dovrebbe continuare a votare?